Ora io sono Marco Scorano e signore e signori bentornati nella Spacecraft Nell'ultima puntata abbiamo fatto questo fighissimo teletrasporto Davvero davvero bello 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 che ci serve per portarci In quella che sarà la nostra futura base sotterranea Ci vorrà un pochino Saranno puntate un po' di MMM Perché il signor Marco Scorano non sa assolutamente costruire Rispetto ai vostri suggerimenti Se è possibile magari mandatemi un messaggio con un'immagine Prendete questo pacchetto che lo ricordo ancora È sull'FTB nel pacchetto di terze parti Si chiama Galactic Science E non lo so fate una struttura Tipo questa magari potrebbe andare Effettivamente questa è bella potrei ricopiarla Andate e mandatemi un messaggio con uno screen Di una stanza, di un corridoio, di quello che vi pare Io volevo coquere questa cobblestone Ed oggi infatti cerchiamo di trasferire Non trasferire ma fare almeno un'entratina Questo qui è l'airlock, perfetto Tanto qui ormai è tutto bugarellato Chi se ne frega della musica Ho fatto Un transcriver E dei laboratori block Volevo fare dei tyrant Però ci ho Questo qui è bellissimo, è vero Ora che ci penso L'equipment Equipment Equipment Vediamo un po' come si fa Non mi ricordo Ma si fa facilissimo No, lo voglio glowato Ah è vero, è vero, è vero, è vero Si faceva così Uno E voilà E poi Mazza soltanto sedici Brutto bagarospo E poi con la glowstone Voilà Questi qui sono blocchi luminosi Quindi abbiamo il pavimento Le strisciature Però ancora lo possiamo fare Perché non c'ho proprio La stone Vediamo un po' Eccola qua La stone Mi piace tantissimo Quello non riesco ad abbandonarlo Ragazzi mi dispiace Il Tirannius Si faceva Il Come si chiama? Il Tarian Si faceva così Si 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 E adesso ce l'abbiamo Soltanto 40 blocchi Ci abbiamo la Ciselle in mano Ci abbiamo il transcriver Non dobbiamo uscire A questo punto Ma ci basta fare Così Pam 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 Guardate come cambia colore E il teletrasporto E' quasi in atto Verde Olè Oh ma io sto qui E non ci stanno Ci stanno invece Ciao mob Come state? Bene Ok Allora Facciamo Una porticciola Prima che vengano A romperci Il culetto Facciamo così Voi non vedete un cacchio Lo so Mi dispiace Un Due La volevo fare più grande Effettivamente Per ora Ci teniamo questa porticciola qua Poi la faremo un po' più grande Perché voglio assolutamente Fare un'entrata De Cristo Però se ci sta Do voi Allora Questa qui Diciamo se il giocatore E' a meno di un metro Ok perfetto Adesso si chiude E io non ho conservato La moon La vado a prendere Adesso ormai C'ho l'armatura De Cristo Il problema Grande E' soltanto Quando I creepers Ci fanno esplodere La casa Quindi tipo Guardate Cioè vabbè A parte che i creepers Ecco avete visto Mi è esploso un creepers E un creeper E io Non ho subito Alcun dannolo E' bellissimo E' maraviglioso E' fantastico Ok Ho un po' di moon turf Andiamo a vedere Di rendere questa casina Un po' più decente Cioè L'entrata un po' più decente Io direi che Già qui ci siamo Basterebbe fare così 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 E così Ok Di qua Idem Con patate Perfetto Bravo Marco scroll Ma sei bravissimo Qui qua Idem E qui E' giunto Il momento Di Che ne so Chiudere Oppela Facciamo Una chiusura Un po' come se fosse Un Un incavo Nella montagna Mi piace Ok Ok Vedete Vedete A Creeper Guarda che stronzo Quello è il mio Teletrasporto Mi serve Muori Muori male Bastardo Non entrare dentro casa Avete capito Avete capito Quindi Quindi Ci Evo così Giusto Si Tatatata Tatatata Qui Possiamo Continuare a fare Una sorta di Abbozzo di cupola Perfetto Ci sta Ci sta Voglio metterci Delle luminarie In questo modo Voi vedete E io non divento Ciego E Oh Better Better Betterissimo Perfetto E perfetto E di qua Devo cercare Di essere Bravo quanto Di lì Quindi Uno Due Tre Uno Poi fa così Ma questo è tarf Io non voglio il tarf Io voglio Il dirt Che dovrebbe essere Quello chiaro Merda Quanto cazzo è forte Sto No Ma E allora voglio il tarf Eh si Volevo il tarf Sono un babbeo Ok Torf Che cazzo Non mi dovete spa Guarda quanti strozi Oh Muori Muori male Dai Fate da una bottarella Piccola Ehi Una sola Una sola Mo c'ho l'arma di Cristo Però Non ci sta un'arma di Agittata E' un po' un peccato Pam 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 E giù Qui avevamo detto così Qui chiudiamo Qui chiudiamo Qui chiudiamo Ci sta Ci sta ragazzi Ci sta Facciamo Così Così Vediamo l'entrata Eeeh Ma è bellissima Cioè E' un po' Alla cazzo Un medecane Però qui voglio Cioè voglio fare Una volta nella vita Voglio fare una cosa carina E' troppo chiedere Una cosa carina Eh E' troppo Allora prendiamo un altro Po' Demon dirt Qui c'è un buco Guarda quanto è bello sto Escazzinator E' fantastica E' di una velocità incredibile Brrr Brrr Ok Questa è la lucina Ma la riprendo Vola mio piccolo Pony E richiudiamo qui Pop 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 Però Eh no Non gli sto dando L'effetto L'effetto Cupolone Quindi riepiamo qua L'effetto Cupolone io sono davvero una pippa a minecraft avete idea di quanto tempo è che gioco e quanto tempo è che non so non so disegnare quello poco ma sicuro che non so assolutamente come cazzo si costruisca ho proprio un impedito ma cronico ok aio che stai scemo c'hai i pugni nelle mani quello aio da lì me prendi ma sei proprio una bastarda ok ciao zombie tu sei un babbeo ecco ok perfetto intanto vi sparano frecce direi che l'entrata ci può stare entriamo qui dentro nascondete i gioielli mettiamo una freccia mettiamo una luce qua su volate con noi nel tappeto che poi ok qui ci può stare perfetto perfetto torniamo a casa con il teleporto speravo fosse un po' più veloce però ci sta è figo è figo anche così ovviamente questo è provvisorio perché lo lasciamo lì e non di qua allora quello che volevo fare sono delle scale stair le stair purtroppo della chisel lasciano un po' a desiderare quindi a questo punto io farei le stair di quarzo vediamo un po' quartzo ho 8000 di quarto quindi direi che proprio va bene va più che bene facciamone due stack va e poi facciamo così e ce ne da 64 dovrebbe andare dovrebbe andare il quarto ce l'abbiamo perfetto questi qui sono dei blocchi bellissimissimi che adesso vi faccio vedere dov'è la la chisel oh regà ma famo famo una golden bag golden bag golden bag eccola qui patapim e che ti manca amico mio ah la lana 1 2 3 4 molto good e voilà le jesonfe ok così non stiamo lì a romperci i coglionoessis questo lo buttiamo dentro e volevo far vedere a parte questo a parte questo a parte questo ah ho fatto questi qui che sono luminosi però effettivamente ci potrebbero servire soltanto per i pannelli solari per i pannelli solari vorrei fare una stazione che voli che vola che voli che vola esatto questi qui sono da cisellare questi sono tutti da cisellare che altro mi manca qualcosa che volevo far vedere no ce l'ho ce l'ho nell'inventario sono coglione questi qua guardate che belli questi i fan sono bellissimi e ci stanno un cifro in una zona altamente industrializzata questo che cos'è? che brutto che sei figlio mio sei un rebondo è davvero fai schif allora mentre questo diventa il nostro classico amico il laboratorio block io voglio questo qui chiaro giusto? che non è questo qual è? è questo qui yeah badabim badabim questo è un cubo che non si fa questo qui perfetto ragazzi abbiamo tutto prendiamo anche i fan in realtà questo si creano cose interessanti tipo la grata che cos'è questo? oh carino carino per magari la zona iniziale peccato per le scale ragazzi peccato 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 ok teletrasporto e si torna di là dovremmo fare questo di là e questo di qua per un po' però poi comunque abbiamo lo scazzinator qui ci sta ci sta che ok lo scazzinator è un po' è un po' ostico direi di fare no perfetto bravo bravo marcus crone hai capito tutto 4 ma si ma crepi la parizia raga 4 oddio quanto è forte ok guardate che che figo che capisce che tu vuoi rompere i blocchi e lui ti aiuta e lui lo fa lo fa al posto tuo perché è intelligente lo scazzinator ti capisce allora pam 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 e patapam e ci abbiamo questa salita che non è niente male l'unica cosina che uno potrebbe dire è no cazzo è figa mi piace mi piace mi piace mi piace eccoci qua allora qui qui si potrebbe continuare con il quarzo oppure buttarci lui il nostro amico che ci sta eh oh merda porca puttana devo stare attento devi stare attento marcus crone vieni qui vieni qui vieni qui non esplodere merda che non sei altro merda così così e così ok tu rompiti ti prego rompiti ok airlock perfetto e io direi qui di fare una hall un po' più che cazzo sta succedendo che cazzo stava succedendo oh uè 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 l'ossigeno ce l'ho l'ossigeno ce l'ho non so boh aio 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 ma che what a fuck sta succedendo oh merda oh merda ah è finita l'energia lo scazzinator e mi sta facendo danno ma sul serio e perché cioè avvisami tipo dimmi che ne so energia finita no eh proprio così a buffo va bene ok d'accordo vabbè allora carichiamolo il nostro amico e intanto cerchiamo qualcosa da mangiare cocked ah giusto è vero c'ho la carne di porco gnomi 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 dai rega che facciamo un lavoretto che è de cristo proprio cioè non nel senso che è de cristo nel senso che eh esatto capito bravi tra l'altro ci dobbiamo informare se c'è una batteria che ricarichi tipo quella della thermal le cosine nostre ok adesso non dovremo più prendere danno perfetto io direi che questa haul la possiamo fare uno due tre quattro cinque sei si sei per seo due quattro cinque sei perfetto sembra anche non esserci rotture di cazzo giusto ah ah fantastico peccato che non c'è il quel fregnaccio della thermal che era bellissimo e che non mi ricordo come si chiama però io qui volevo romperti cioè nel senso volevo far così guarda eh così 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 ah giusto faccio così perfetto di qua questi li togliamo non mi cadere un creeper che se no spacco tutto quanto e però fuori poi si vede ci devo riflettere ci devo riflettere marco scrono e riflettici tu parapunzi punzi e po' vabbè intanto noi facciamo così e ci abbiamo la struttura mi piace poi da questa wall io ci metterei delle lucette qua sotto altrimenti non ci vediamo niente bravo guai 6 da questa wall prenderei un passetto e scenderei quindi scala qui poi di qua e così via voglio scendere abbastanza perché voglio effettivamente fare un laboratorio sotterraneo da proprio tizio pazzo e quindi ci serve molto molto spazio ci servono un sacco di cosine questa serie potrebbe diventare interessante anche per tutte le varie automazioni cioè nel senso non è soltanto esploriamo esploriamo lo spazio e vinciamo la partita finiamo la partita inoltre poi ci serve una base un po' più tranquilla perché quella che avevamo fatto era una è una verda e visto che la Galacticraft e un sacco di altre moddine ci richiedono un sacco un sacco un sacco di materiali non so se vi ricordate ne avevo tipo le avevo finiti più volte a questo punto io voglio fare un'enorme stanza fabbricosa dove fare un sacco di automatic sage che che sbriciolano tutte le cose per ottenere un botto di risorse quindi sia sabbia sia gravel sia la dust non c'è ma anche il moon turf per ottenere la glowstone la redstone e così via ok allora adesso dobbiamo fare un paio di calcoli siamo scesi abbastanza o ancora non è sufficiente perché è un po' più lento adesso lo scazzinator non trovate eh perché siamo a livello facciamo così qui stiamo a 64 fuori da casa oh merda oh ripasso il castrato dentro fuori di casa stiamo a tu muori 60 quindi dobbiamo stare sicuramente più sotto oh e muori al brutto no mamma mia che salvata lo so potrei operare di giorno ma chi se ne frega 64 60 soltanto 5 blocchi sotto la superficie del coso no io direi di scendere e scendere e scendere in modo che così ci possiamo allargare possiamo usare le pareti molto molto larghe e alte soprattutto se ci serve una stanza con 6 in altezza stiamo abbastanza tranquilli patapim 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 patapem direi di prendere una misura tipo 50 ma 50 già potrebbe essere potrebbe fare il caso nostro metto delle lucine e facciamo così e così e così voi ditemi se vi piacciono le puntate di costruzione perché se ve le sparo tutte altrimenti magari taglio tipo per esempio qui abbiamo fatto il buco l'abbiamo fatto insieme poi a coprirlo a ricoprirlo di roba lo faccio io ovviamente quindi qui stiamo a 48 direi che 48 è più che sufficiente e direi che è il caso di mettere allora qui arriviamo con la light poi cioè scusate qui arriviamo con le scale qui è la prima volta quindi io direi di allargare di uno allargare di due vorrei fare una stanza centrale che ti porta ad almeno quattro blocchi di stanze oppure facciamo no vabbè facciamo quattro una stanza centrale tonda che porta a quattro blocchi in questa maniera mandiamo a che ne so una fattoria cioè una factory in inglese quindi un'industria la stanza del teletrasporto la stanza con razzo no quella con razzo la voglio fare volante la voglio fare insieme ai paneli solari con sopra tutti i razzi e ci spostiamo col teletrasporto che non è male e sotto la stanza dell'energia poi ovviamente con i teletrasporti possiamo fare tutte cose molto più velocemente nel senso non dobbiamo necessariamente muoverci e devo trovare un sistema di distribuzione dell'ossigeno perché voglio loccare tutto se non questa parte perché qui ci vagliano le scale quindi è un po' più difficile oddio se potrebbe pure fare tutto in realtà chi ce lo vieta certo qui adesso dovrò alzare un pochettino io me lo sto prendendo comoda ma non ti tubate ragazzi faremo anche altra robetta e io disallustro col teletrasporto guarda che bellino la prossima puntata però vediamo così quindi bella per voi